Per un panino veloce, per una piadina sfiziosa, oppure per gustare dell'ottimo pesce al ristorante, la soluzione perfetta è Garmanger. Panineria, piadineria, ristorante di pesce, tutto in uno. Da Garmanger, tutto è da consumare comodamente seduto o da portare via. Il posto perfetto per ogni occasione. Garmanger, via Pierpaolo Pasolini, Favara, dietro gli uffici comunali dell'ex mattatoio. Ti aspettiamo anche con i tuoi amici e con la tua famiglia.